salve a tutti amici bentrovati ancora l'anticiclone africano protagonista ancora il sole e soprattutto ancora il caldo questi sono gli ingredienti che sicuramente caratterizzeranno gran parte di questa settimana aggiungono ulteriori segnali di un possibile cedimento di questa struttura di alta pressione proprio a partire dal nord Italia a cavallo del fine settimana ma soprattutto tra domenica e lunedì prossimi dunque è una situazione purtroppo che comunque va ancora seguita e soprattutto va confermata perché non è ancora assolutamente certo che l'alta pressione ceda in maniera decisamente importante intanto abbiamo una situazione invece di stabilità totale atmosferica il tempo si manterrà decisamente stabile solleggiato un po' su tutte le nostre zone mettiamo in conto nelle ore più calde sempre la possibilità di qualche disturbo sui monti disturbi che si tradurranno in qualche acquazzone forse anche qualche isolato temporale ma per il resto saranno davvero il sole e il caldo protagonista con temperature vedete decisamente molto molto elevato nei prossimi giorni continueremo a avere valori anche vicino ai 40 gradi addirittura sulle aree di pianura interna si starà un po' meglio invece lungo le coste e come dicevo infatti anche nei prossimi giorni non ci saranno assolutamente cambiamenti di nota il tempo continuerà a mantenere una forte stabilità e il caldo continuerà davvero a divenire protagonista. Mi fermo qui amici grazie per essere stati con noi a Pitardi. Grazie per la visione!